Il 0,5% è del Ministero del Tesoro, adesso è il Ministero dell'Economia e Finanze. E lo 0,5% è quello di fatto è dello Stato, però questo rivela la doppiezza dell'Italia. Essendo un SPA di natura privata, il che vuol dire che non è pronto a fare concorsi, quindi io ti posso assumere perché ho il potere e tu sei raccomandato. Ogni tanto mi invento di fare i concorsi, così mi salvo la coscienza. Questo spiega perché tanta gente può essere chiamata con chiamata diretta. Chiamo un meccanismo, un trucchetto? Allora, la televisione dove va? La televisione è andata, è andata in tutte le case. E ha detto Tullio De Mauro, un grandissimo uomo di cultura lì. La Unità d'Italia non l'ha fatta la Chiesa, non l'ha fatta il fascismo, l'ha fatta la televisione e ha perfettamente ragione.